Il regolamento sul funzionamento della nuova RSA è uno dei grandi obiettivi di questo programma di legislatura che andiamo a raggiungere dopo proprio preciso un anno dalla mia nuova elezione quindi anche con un certo orgoglio che porta conoscenza ai miei cittadini di questo nuovo servizio revisionato in una struttura molto più efficiente, più moderna e che potrà sicuramente accogliere i nostri ospiti come si deve. Ho ricordato poco fa, è un anno esatto, oggi dalla seconda elezione, insomma dall'inizio del suo secondo mandato è possibile intanto trarre un bilancio anche se sono passati solo 365 giorni? Ad un anno appunto da questa seconda legislatura possiamo trarre già un primo sintetico bilancio. Stiamo concludendo il bando per l'ampliamento della scuola primaria Arcobaleno che ha un valore di circa un milione di euro, quindi un importante investimento per questo nuovo territorio mentre stiamo lavorando come detto al trasferimento dell'RSA che avverrà nel giro di pochissimi giorni e procederemo a seguire con il bando per l'allargamento di Costa Alvado altro intervento tanto atteso dai cittadini di Ciggiano.